Si è da poco conclusa la quinta puntata live di X Factor e c'è stata una doppia eliminazione. Nella prima manche, chiamata la manche giostra, i concorrenti cantavano senza soluzione di continuità, uno dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, e praticamente da questa c'era stata subito un'eliminazione diretta. E purtroppo la cantante Joelle è stata la prima eliminata. La seconda manche, che è stata la manche con l'orchestra, praticamente intorno a loro c'era l'orchestra che suonava dal vivo. Quindi, uno spettacolo. Gli omini hanno cantato Beatleswitch Symphony dei Verve, i disco club Paradiso hanno cantato Cuore Matto di Little Tony, i tropea hanno cantato Sound to Say Goodbye dei Placebo, i santi francesi hanno cantato Somebody That I Used To Know. C'è anche una cover sul mio canale di questa canzone. Linda ha cantato Running Up The Hill di Kate Bush, però ha avuto un problema col microfono, poverina. Infatti mi sono accorto subito, è l'ora, è il microfono, è l'ora, fate qualcosa. E infatti dopo l'hanno fatta ricantare. Beatrice Quinta ha cantato Don't Stop Believing dei Giorni, sempre con i suoi abiti molto sobri. Chi è andato in ballottaggio, chi è andato in ballottaggio, chi è andato in ballottaggio? Allora, i tropea, ancora, ancora, ma loro vanno sempre in ballottaggio, ormai non è una novità. Contro chi sono andati in ballottaggio? Contro il disco club Paradiso. Quindi si sono scontrate due band e allora i tropean hanno cantato Luna di Verdena, canta sempre quella ormai. E i disco club Paradiso hanno cantato Svalutation di Adriano Celentano. I giudici hanno votato e i loro voti cos'hanno decretato? Hanno decretato che secondo l'eliminato di oggi sono stati i disco club Paradiso. Aiaiaiaia, non sentiremo più Jackie Sachs? Vabbè, magari lo sentiremo in altre salse, ma non più a X-Factor. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata, ciao!